Buona Albertini, buona la seconda, oggi i ragazzi hanno veramente dimostrato di non mollare mai ma oggi è una cosa importante, oggi è 300 presenze a Zugrana di Luca Albertini commentaci, intanto queste 300 presenze, poi la partita di oggi, 3 punti Allora, partiamo dalla cosa principale che è la partita quindi siamo contiti che abbiamo preso i 3 punti perché insomma visto tante cose un po' il tre campionato non è andato troppo bene Poi Italia non ne parliamo, no bene siamo contenti perché è venuto comunque da una battaglia abbiamo dimostrato di aver carattere oltre che tecnica e tattica quindi siamo contenti tutti, eravamo stremati o soddisfatti? C'è la calda Oggi c'erano ancora poi leggeri i 32-33 gradi, però molto contenti, molto soddisfatti 300 sono tante Luca? 325 anni sono tante, si è iniziato con tassi proprio contro se stese, eravamo 15 anni ne sono passati 10 e oggi è la 300esima Da capitano tra l'altro Da capitano, no, è una bellissima soddisfazione perché comunque non sono pochi non me ne rendo neanche conto però mi fanno capire i miei compagni cosa vuol dire Parano i numeri, le date, i numeri parli Esatto, quindi sono contentissimo Pagano da bere Bertini Bertini paga da bere Sono contentissimo Bello della diretta E toccherà andare a pagare da bere i compagni giustamente Io dico con piacere Con piacere, estremo piacere assolutamente Vogliamo sempre bassi, questa è una buona partenza Come abbiamo già detto insieme io e te all'inizio Vogliamo essere umili Sì, sì, umilissimi perché l'anno scorso ci ricordiamo bene la prima partita Abbiamo vinto 3-1 Siamo partiti Contra una squadra che poi è andata nei play-off e noi siamo finiti nei play-off Esatto Quindi siamo partiti bene la prima, siamo partiti bene la seconda Forte! L'america prossima contro il Fenegrò cercheremo subito di continuare sulla strada di... Per oggi, finiamo la giornata goldendoci questi tre punti Sì, 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 fino a domani ci si diverte e si rilassa E poi martedì si ricomincia a stile Grazie Luca, buon ritorno a casa Grazie, ciao, ciao a tutti Ciao